Siamo in una fase che sembra quasi un primo giorno di scuola, qualcosa di nuovo che comincia dopo tanto tempo a rimettersi in movimento. Queste le parole di Costabile Spinelli intervenuto su Cilento Channel in diretta news. Stamattina facevo questa riflessione, continua Spinelli, gli adulti oggi si trovano come il primo giorno oggi a guardarsi spaesati con un senso quasi di smarimento. Il pensiero che molto spesso rivolgo ai bambini è oggi forse capiamo che significa cambiare abitudini, cambiare anche le cose che sono nella quotidianità nella quale un ragazzo o un bambino cresce con gli amici, con la scuola e cambiarle in due mesi significa anche incidere dal punto di vista psicologico. In città, visto che la platea si allargava, ho ritenuto opportuno adottare un'ordinanza applicativa del DPCM per cercare di dare uno strumento efficace alla nostra polizia municipale che sta facendo un lavoro egregio sul territorio. Quest'ordinanza ha disciplinato tre cose molto semplici per i cantieri edili. Abbiamo nel nostro territorio una serie di lavoratori che arrivano da fuori, quindi imprese non residenti nel territorio di Castellabate che esercitano appunto nel territorio e devono darne comunicazione alla polizia municipale. Per quanto riguarda i congiunti, per evitare che dietro questa motivazione si aggirasse un po' la norma, abbiamo stabilito che la visita ai congiunti è limitata nell'arco della stessa giornata, anche dopo le 19.30, purché nell'arco della giornata stessa. Per quanto riguarda gli animali da cortile, si può fare ma che avvenga nelle 24 ore. Non dobbiamo dimenticare che non siamo fuori dal pericolo e non dobbiamo abbassare la guardia. Il controllo che ci sarà in questi giorni sarà un controllo diverso rispetto a tutto il mese di marzo e di aprile. Ciò che sto cercando di far capire è non c'è una differenza o una contrapposizione tra residente e non residente.